Presentato ufficialmente il nuovo sistema di gestione delle menze scolastiche di Macerata che semplificherà le modalità di pagamento e porterà a un miglioramento delle procedure per la rilevazione dei pasti della comunicazione con le famiglie e maggiore trasparenza in un percorso iniziato tre anni fa. Tutte le menze della comune di Macerata sono con un sistema biologico di qualità, adesso mettiamo un altro sistema, possiamo dire menze verdi bio smart, smart perché con un'app e un tablet riusciremo a creare un rapporto diretto genitore e servizio scolastico in modo da poter avere informazioni immediate sia sul menu del giorno, sia sulla presenza del bambino a scuola per mangiare, sia sulle possibilità di pagamento. È un sistema innovativo, tecnologico, estremamente avanzato che renderà il servizio molto più pratico, funzionale e soprattutto utile a tutti. Ai genitori sarà consegnata una tessera identificativa che dovrà essere utilizzata solo per il calicamento del credito, mentre sarà possibile scaricare gratuitamente dal Play Store di Google l'app loro dedicata che consentirà di ottenere informazioni sul menu somministrato, numeri dei pasti consumati, data nella quale è stato consumato il pasto, situazione credito debito e data di importo dei versamenti eseguiti. Questo gestionale che abbiamo acquistato adesso per il servizio scuola serve a velocizzare le modalità di eventuale pagamento dei pasti effettuati nelle menze scolastiche attraverso un'app a cui i genitori potranno accedere semplicemente prendendola da Play Store e riusciranno a vedere la situazione dei pasti dei bambini che effettueranno nelle menze scolastiche e velocizzeremo il pagamento perché potrà essere effettuato sia tramite online sia direttamente in banca a marche. Il problema evidenziato dai genitori del comitato di mensa era principalmente il discorso di poter effettuare pagamenti in diverse modalità, non solamente attraverso lo sportello della banca che era il nostro servizio tesoreria. Attraverso quindi questa app in cui il genitore potrà vedere il numero dei pasti che ha effettuato il bambino e quindi potrà avere un salvadanaio in cui poter versare il contributo per il pasto, potrà farlo direttamente online tramite l'onbanking o tramite bonifico bancario. Il nuovo servizio in questi ultimi due mesi di scuola sarà sperimentato solo in alcuni istituti per essere poi a regime da settembre.